Ridurre la produzione di rifiuti e smaltirli meglio. La provincia di Roma vuole essere il primo ente in Italia ad attuare la direttiva europea 98 del 2008 ancora in corso di recepimento dallo Stato italiano. Per questo ai comuni del territorio è stato presentato un programma in dieci punti per prevenire la produzione dei rifiuti, migliorarne lo smaltimento potenziando ulteriormente la raccolta differenziata che secondo Michele Civita, assessore all'ambiente, nella provincia di Roma coinvolge già molti cittadini. 830 mila abitanti circa o già stanno facendo il servizio di raccolta porta a porta in provincia di Roma o hanno progetti finanziati e quindi nei prossimi mesi avvieranno questa nuova modalità di gestione. È una piccola rivoluzione fare in modo che nella nostra realtà il rifiuto possa essere una risorsa, una risorsa importante per il nostro futuro. Dopo 30 giorni di confronto con comuni, forze sociali ed impresa, il piano sarà adottato dall'aggiunta provinciale. Vogliamo anticipare l'Italia, dice Nicola Zingaretti. Il protocollo sulla differenziata premierà le buone pratiche, cioè quei comuni che produrranno differenziata di qualità. Ma noi per primi in Italia, e siamo orgogliosi che sarà la provincia di Roma, sperimentiamo anche un piano che punta a ridurre la quantità di rifiuti prodotti. Grazie a tutti.